Salve a tutti ragazzi, benvenuti sul canale di NikonGame. Ragazzi, finalmente, dopo più di vent'anni, è uscito il remake di Half-Life, Black Mesa. Il team di sviluppo, Crove Bar, ci ha messo anime e cuore per realizzarlo e non vado l'ora di giocarlo insieme a voi. Quindi bando alle ciance e iniziamo subito. Ok, prima di iniziare guardiamo un attimo le opzioni, difficoltà normale, tastiera, mouse, audio, sottotitoli attivi, tutto in italiano, anche se non credo che si sia parlato. Poi, avanzate, sembra tutto a posto. No, questo è il lato di via. Perfetto. Applica, ok, è via. Capitolo 1. In arrivo a Black Mesa. Che figata ragazzi. Che figata. Lo aspettavo da tantissimo tempo. Penso sia uscito a marzo 2020, a marzo di quest'anno. E' disponibile ovviamente su Steam. Adesso non ricordo bene il prezzo, ma dovrebbe girarsi verso una ventina di euro. Che va a secco inizio. Dentro una specie di trenino. E' chiara, chiara. Come è? Comunque la struttura, com'è? Possiamo vedere adesso, questo tragitto che è bellissimo, è immensa, ovviamente in mese. Ovviamente questo è il primo giorno di lavoro, il giorno di lavoro è molto più grande, è tutto tutto. E cosa a me potrebbe essere storto? Chi lo sa? Chi lo sa? Nulla a dire, c'è me ha convocato. Ecco, i classici caricamenti di Half-Life, della Valve. Se non mi sbaglio questi caricamenti, così ce ne ho anche in Portal. Adesso non vorrei sbagliarmi, anche Portal è veramente bellissimo. Questo train è inbound, da Level 3 dormitori, che non mi sono andata in un po' vecchio, di un po' vecchio, di un po' vecchio, di un po' vecchio, di un po' vecchio. Non mi sono andata in un po' vecchio, di un po' vecchio, di un po' vecchio, di un po' vecchio. Non mi sono andata in un po' vecchio, di un po' vecchio. Se non mi sono andata in un po' vecchio, di un po' vecchio, di un po' vecchio. Sì, non si incazzi. Sì, non si incazzi. Sì, non si incazzi. Now, they told me to make sure you head it down there as soon as you got into your hazard suit. Buongiorno, buongiorno. Ma questo chi è? Il tipo di F-Lav2? No, però gli assomiglia. Ma questo viene un po' di solito. E sì, ma che ci sono. Siamo necessita di che vieni questa settimana. Ma? Ho già fatto i ricordi! Non so, non so. Oh, guarda la cosa! Freeman ha fatto esclare al lavoro questa mattina. Si, mi ha detto che qualcuno mi abbia un cuore. Buongiorno, Freeman. Il fatto è stato lato, non è colpa. Azzotti che. Qui ci si può curare, ovviamente. Non abbiamo ancora la tuta. La cazzottissima tuta di... Gordon Freeman. Allora, dov'è che si è andato? Usciamo da questo posto. E qui, forse. Non lo so. Esploriamo. Tu stai vivendo nel passato. Questo esperimento è responsabile solo per inspirare la mia carriera in scienza. Cosa c'è di riconoscenza che credi che avrai ricevuto per la riproduzione, però? Tu dovresti concentrare su una cosa più che vuoi. Oh, sono proprio lì, signor Freeman. Ho ordini espliciti per non lasciarti. Ok, dove ho la tuta di contenimento perché non mi ricordo. L'ho giocato al secolo. Scusate, signor Freeman. No excepcioni. Non anche per te. Ok, andiamo a cercare la tuta. Qui stanno litigando. Vabbè, che cazzo è arrivato a andare? Guardate, guardate il tipo con la valigetta, il bastardo. Questo qui è un bastardo. Non ho mai capito che cazzo fosse. Che cazzo guardi? Che fai? Ah, basta di tappare. Che gran bastardo. Ci sono diverse occasioni in cui le incontreremo io durante il gioco. Sector C, materiale, rail, sistema, è ora operazionale. Oh, vi giuro che mi sto perdendo, mi sto già perdendo. No, da qui siamo arrivati. Sì. Aspetta, forse è qui, eh. Sì, 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 è qui. Buongiorno, buongiorno, salve, salve, salve. No, caffettino a me, se può. Bosa, buongiorno. Non ho mai capito. Ci sento di risultato. I want... Letron, the 60. Ha, ha, ha. Doverete potestriggare la macchina di vendita anche, college, boy? Abbiamo mai aver capito, cosa qui. Lo meglio farei anche uno lato. Perché che è da pollita? È da pollita. Scusa, tac, niente, dai, niente, ok, c'è un'offerta, eh, a me lo chiedi. Triple pleated khakis, preposterous. Allora, eccola qui la tuta, ce l'abbiamo fatta, che figata, è una figata questa tuta, diventiamo supercazzute con questa tuta addosso, ok. Ok, così al fai. Welcome to the HEV Mark 4 Protective System for Use in Hazardous Environment Conditions. I am back, reactive, over, activated, agnosteric, contaminant, scissors, activation, vital sign, monitoring, activated, automatic, medical systems, engage, diversify, No, c'è la pelle della fortuna. No, no, mi consenti, stop, diventeri, abbeno, banduele, stop. Ah... Ehm... sei gerosa? ho quella cravattina tra l'altro che cravatta veramente è bruttina però non parla dei pantaloni si non ti biasimo dove il mio armadietto? roberstone che nomi impronunciabili ok frame non mi sopporto siamo noi che pucciosi ah eeeh questo vuole io passo prego prego continui 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 a fare i suoi bisogni noi nel frattempo andiamo a si si può ora? oh grazie finalmente andiamo un po' più spediti qui ragazzi scendiamo caricamento ovviamente si ce ne saranno a migliaia di questi caricamenti quindi sono un po' fastidiosi ma alla lunga ci si abbia ma non si non Ah, Freeman! Ah, Gordon! There you are! Nice of you to finally join us. We've just sent the sample down to the test chamber. We've boosted the anti-mass spectrometer to 105%. Bit of a gamble, but we needed the extra resolution. The administrator is very concerned that we get a conclusive analysis of today's sample. I gather he went to some lengths to get it. They're waiting for you, Gordon. In the test chamber. Right! Come on then, I'll walk you down. Andiamo nella camera di sperimentazione. Eli has been busy making last minute preparations for the new experiment. Greetings, Eli! Morning, Izzy. I trust this morning finds you well. Oh, Gordon! Good morning. I'm glad you're here. The father of Alice. Here, here, here. It's about to go critical. Attenzione. From here, everything starts. What in the blazes is going on with our equipment? It was never meant to do this in the first place. It's nothing we can't handle ourselves, Levi. It's not easy. Run along, Gordon. It's going to be but a moment. Okay. I'm going to. Oh, okay. 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 I've got the ghost of Becquerel. Il livello di radiazione è off the charts Foriscard Oh, there you are Everybody's been looking for you, hombre Ah, here he is I'm afraid we'll be deviating a bit From standard analysis procedure today, Gordon Yes, yes, but with good reason This is a rare opportunity for us This is the purest sample we've seen yet And potentially the most unstable Now, as long as we follow standard insertion procedures Everything will be fine I don't know how you can say that Although I will admit that the possibility of a resonance cascade scenario Is extremely unlikely I just don't feel Gordon doesn't need to hear all this He's a highly trained professional We've assured the administrator that nothing will go wrong Yes, you're right Gordon, we have complete confidence in you Well, go ahead Let's let him in now Testing Testing Everything seems to be in order All right, Gordon Your suit should keep you comfortable through all this The specimen will be delivered to you in a few moments Now, if you would be so good as to climb up and start the rotors That way we can bring the anti-mass spectrometer to 80% And hold it there until the carrier arrives Okay Very good We'll take it from here Power to stage 1 emitters in 3, 2, 1 I'm seeing predictable phasers at least Stage 2 emitters activating now Uh, Gordon, we cannot predict how long the system can operate at this level Or how long the reading will take Please work as quickly as you can Overhead capacitors to 105% Uh, it's probably not a problem Probably But I'm showing a small discrepancy in Well, no It's well within acceptable balance again Sustaining sequence We've just been informed that the sample is ready, Gordon It should be coming up to you at any moment Look to the delivery system for your specimen Standard insertion for non-standard specimen Go ahead, Gordon Slot the carrier to the analysis You don't want to see it Shut it down Shut it down Someone get him out of there Shut it down It's not It's not Shut it down Oh no Like a fool Let's go Let's go Let's go Let's go A un certo colore. A un certo colore, guarda, guarda, i parenti di Lera, di Futurama, sono i parenti di Lera di Futurama, Sara, Sara. A un certo colore, guarda, guarda, guarda. Che cazzo? come on come on come on come on come on come on posizione E' un'altra cosa, la stacchina è un'altra cosa. Attention, Sector C, Science, Personnel. Evacuate area immediately. No, ragazzi, io direi che ferma. Non c'è mai che ferma, non c'è mai. Scegliamo la chanson, situazione. Ok. E per il momento lo fermo ancora, ma ci vediamo al prossimo video. Ciao.